Salutiamo anche Davide Giacalone per la rassegna stampa. Davide, buongiorno. Buongiorno, buon venerdì. Allora, partiamo questa mattina dalla Prima della Repubblica, ne parleremo più avanti. Trump via subito, i democratici chiedono al vicepresidente Mike Pence di applicare il venticinquesimo emendamento e farlo decadere. È pericoloso, tra virgolette, è attentato il golpe. E poi, favoriti i parenti. Siamo a fondo pagina, parliamo di vaccini, virus caccia ai furbetti. Che succede, Davide? Ma io non lo trovo, non trovo che sia una cosa così grave che è successo probabilmente in un ospedale di Modena a quel che sembra, cioè quello che leggo sui giornali, i sanitari si sono trovati la sera a fine giornata del lavoro a chiudere, quello è il problema, perché semmai le vaccinazioni non dovrebbero chiudere e andare 24 ore su 24 e con delle dosi che erano avanzate, dice che facciamo? E hanno chiamato le figlie, credo i parenti, insomma, e hanno praticato loro questo vaccino. Non si fa, non dovrebbe succedere, tutto quello che volete, insomma non è che sia così. Semmai mi viene il dubbio. Noi avevamo chiesto, avevo chiesto ieri, ma sono tutti registrati quelli vaccinati? Perché registrate non significa soltanto annotare nel librone di carta, nome, cognome, tipo di dose e scadenza quando è stata praticata, ma che ci sia un'anagrafe digitalmente consultabile, perché leggo per esempio sul fatto quotidiano, in prima pagina, Arcuri dice i vaccini agli ottantenni già da febbraio, il che significa che in un'annotazione di una banca dati digitale oggi dovrebbe esserci il nome di chi? Solo dei sanitari, perché se gli ottantenni cominciamo a febbraio, quindi sarebbe molto facile, diciamo, eventualmente scoprire degli abusi sistemici organizzati. Detto ciò, ho visto che sono fiorite le classifiche. Prima l'Italia, seconda, sia per numero assoluto, sia per percentuale, ma va benissimo, nel senso che è comunque una riscossa. Il guaio qual è? Leggo per esempio sul Messaggero un'intervista a Paolo Sileri, sottosegretario della salute, con questi numeri a fine giugno avremo immunizzato solo un cittadino su cinque, perché si va piano, certo che si va piano. Il dato ufficiale è questa notte alle 0.23, noi avevamo in Italia a disposizione 469.950 dosi, più 438.750 che sono già state consegnate, e di queste sono stati fatti vaccini per 412.619, cioè non solo sono, diciamo, meno della metà delle dosi consegnate, ma sono meno dei 450.000 a settimana, qui stiamo parlando dal 28 di dicembre, che è stabilito dai conti resi pubblici del commissario per mantenere un buon ritmo di vaccinazione. Questo è il problema, ragazzi. Dopodiché, bellissimo che abbiamo recuperato un po' di velocità, ma considerato quello che dicevamo prima, è che al momento si vaccinano esclusivamente i sanitari, cioè che è il parco più facile da raggiungere, nel senso che al collega la mattina mentre vendono il caffè dice dammi il braccio, ti faccio l'iniezione. È più complicato andare sugli altri, quindi questo è il tema. Ultima cosa, leggo su un messaggero che il governo starebbe valutando la possibilità di cambiare un po' col piano dei vaccini e vaccinare subito professori e alunni prima degli under 70. Non so se la notizia è fondata, la troverei ragionevole. È un punto, è una questione su cui ragionare seriamente, cioè in qualche modo mettere nelle condizioni di far funzionare interi comparti. In questo caso la scuola, che è molto importante, eventualmente altri, ma insomma in ogni caso la cosa più importante è togliere i vaccini dai frigoriferi. Dal Corriere della Sera, offensiva per rimuovere Trump, questa l'apertura, Biden è proclamato presidente, lo accusa, ha incitato all'assalto, è un attacco alla democrazia, su questo ci torneremo più tardi. A centropagina scuole, apertura rinviata in Lombardia, 20 miliardi in più nel recovery fund. Dicevamo all'interno, ancora vaccini con il caso di Bagno di Romagna, siamo in provincia di Forlì, Cesena, troppi no vax nella RSA, lì licenzio. Sì, questo si è localizzato lì in Bagno di Romagna perché il sindaco ha sollevato la questione, ma credo che troppi o pochi, quel che sono, forse anche uno solo in Italia, il tema c'è anche in altre parti del nostro paese. Io credo che il sindaco abbia ragione, anche se questo ripropone il tema dell'obbligatorietà, non obbligatorietà. È talmente lunga la fila di noi italiani che bramiamo riuscire a farci vaccinare che, porsi il problema di chi non si vuole mettere in fila, lo trovo assolutamente ozioso. Ma il problema è, se stai in un posto che è esposto e che esponi gli alti al rischio, come ci si comporta? Bisogna rendere obbligatorio? Ma ci si comporta come per la guida delle autovetture. Allora, non è obbligatorio mettersi alla guida di un'autovettura e non è obbligatorio iscriversi alla scuola guida e prendere la patente. Sono libere scelte. Però, se vuoi guidare una macchina, devi avere la patente. Se no, ti arrestiamo. Perché queste sono le regole. Non è perché c'è una specie di incubo burocratico ai tuoi danni, ma per tutelare gli altri dai matti che si mettono al volante. Allora, vuoi lavorare in una RSA al momento in cui ti viene offerto il vaccino? Devi vaccinarti, perché questo ha a che vedere con la sicurezza degli ospiti della RSA. Tu non vuoi vaccinarti? Liberissimo di non vaccinarti, imboccare la porta e tornartene a casa. Davide, proseguiamo dalla prima della stampa di Torino. Appunto, andiamo negli Stati Uniti. Lo dicevamo in apertura. Tra virgolette, così Trump ha distrutto l'America. Biden attacca. Ha incitato alla rivolta. Donald, chiuso nel bunker, pensa di darsi la grazia. Sicurezza sotto accusa. Dopo l'assalto a Capitol Hill, il Senato ratifica il cambio della guardia. Davide. Ci sono cose che si mescolano qui. Allora, da una parte si dice, attenzione, però, in fondo rappresenta una parte importante. Bisogna la metà degli elettori statunitensi. Vedo anche i professori che ne discutono. È comunque stato votato da quelli che si sentivano abbandonati dall'elite. Ora, non è che uno, per non essere con l'elite, diventa un violento e si mette al seguito dei matti. E poi, semmai, il Presidente Trump ha proprio fatto un pessimo servizio a quell'elettorato che dovrebbe rappresentare. Perché non c'è dubbio che c'è una vastissima parte dell'elettorato statunitense, ma direi anche in generale dell'opinione pubblica globale, compreso nel nostro paese, che non ama proprio per niente, diciamo così, i tic del buonismo, i tic del politicamente corretto. E quindi guarda con simpatia al leader che rompono questo conformismo. Ma non è un bel servizio metterli accanto a un gruppo di svalvolati con le corna e la pelliccia che dicono di essere degli sciamani e che entrano con violenza a Capitol Hill? Perché non vedo perché quell'opinione pubblica deve abilitarsi questo genere di bollo. Quindi ha fatto un pessimo servizio a quella parte dell'opinione pubblica. E detto questo, è esattamente come è successo. Quando hanno ammazzato barbaramente Floyd negli Stati Uniti, vi ricordate la questione dei poliziotti che misero il ginocchio sul collo di questo ragazzo nero che è morto, soffocato, barbaro, ci sono state delle reazioni, delle proteste, sacrosante, sacrosante. Il punto è che quando hanno cominciato a saccheggiare i negozi si è detto fermatevi, ma che c'entra con Floyd il saccheggiare i negozi? Ecco, e che c'entra con l'essere contro la sinistra al governo, il dovere mettersi le corna andrà presso un imbecille. Tutto qua. Ancora di Trump si parla dalla prima del Sole 24 Ore, Wall Street. Eccoci qui, record oltre i 31 mila punti, tolto l'assedio, Biden presidente degli Stati Uniti. Decliniamo però l'argomento andando a pagina 2, il business contro Trump, Facebook chiude il suo account. Sì, ha detto Zuckerberg che mina la legalità a rischio troppo grande. Allora, che cosa penso del presidente Trump? Diciamo, è abbastanza trasparente da quattro anni perché esiste il dissenso politico però non c'è dubbio che fu legittimamente e democraticamente eletto. Non c'è alcun dubbio che in questo modo di far politica contano molto i social e contò molto Facebook e contano molto in modo sotterraneo i dati che Facebook produce e che non è detto che abbiano sempre un uso regolare. Conta molto il fatto che si consente a certi leader poi di non uno solo naturalmente non è solamente il caso di Trump ovviamente di dire qualsiasi cosa perché tanto si rivolgono solamente al pubblico che li sta ad ascoltare e quindi gli altri non manco si accorgono delle cose delle bubole che vanno diffondendo nel mondo questo è un problema che dobbiamo porci tutti però non è che decide Zuckerberg chi parla oppure non parla questo è il problema della democrazia non è che Zuckerberg prima è il canale dove uno può affermare qualsiasi cosa che c'è un complotto cioè vi rendete conto che questi qua con le corna che sono entrati sono antisemiti hanno il complotto gli illuminati sono rintronati totali e non è che si può concedere ma c'è libertà d'opinione sì ma non di follia ma non è che decide Zuckerberg e quindi ho un problema di regole dell'informazione e della democrazia che non possono essere demandate semplicemente al fatto che lui è il proprietario ed è ricco troppo poco dalla prima del messaggero Davide vaccini a scuola il piano di primavera il governo valuta di anticipare la profilassi professori alunni prima degli under 70 e poi torniamo a parlare di Next Generation EU oppure il recovery fund dal ministero dell'economia il testo sull'impiego dei 222 miliardi attenzione non più 209 il recovery plan titola il messaggero al 50% i fondi per il sud e la spinta al PIL potrebbe arrivare al 3% Sì, ieri è stato diffuso un altro documento noi avevamo avvertito giorni fa appunto che la cifra sarebbe stata ritoccata in alto non perché avessimo fatto un calcolo diverso ma semplicemente perché era stata presa una decisione dalla Commissione Europea che portava su questi fondi a disposizione vedo anche dal documento che è stato diffuso ieri che si continua a ragionare per saldi cioè per esempio si dice siccome c'è una pressione relativa al fatto che i soldi alla sanità del primo progetto recovery erano troppo pochi e poi ci sono i 36 miliardi che sono liberi del meccanismo europeo di stabilità che creano polemiche hanno aumentato i fondi hanno aumentato i fondi alla sanità che bello il problema non ne sono le partite non è la cifra che metti nel rigo ma come le spendi la spesa sanitaria del resto in Italia è sempre aumentata è costantemente aumentata non è mai stata tagliata ma i posti letto sì il personale sanitario sì allora il problema è dove metti i soldi così come per esempio c'è questo anche nel documento di ieri c'è il capitolo che è fondamentale noi puntiamo fermamente alla parità di genere perché la parità di genere è importante ora io non vorrei che fosse una parigenericità per tutti ma che ma che vuol dire parità di genere cioè quando tu metti i soldi da qualche parte per la parità di genere che significa esattamente dove li metti cosa cosa fai spendendo i soldi perché c'è un modo serio per promuovere la parità di genere soprattutto la parità di genere fra le persone intelligenti ed è la meritocrazia cioè senza nessun'altra distinzione che è la tua capacità e il tuo merito questa sì è una cosa importante che si può fare però richiede più che mettere i soldi da qualche parte richiede avere meccanismi di selezione nelle carriere a scuola come nella magistratura che non si va davanti per anzianità ma si va davanti per merito e una serie di altre faccende che solo molto marginalmente costano ma se io mi limito ad appostare delle cifre e poi tutto il dibattito politico sta attorno all'appostamento di queste cifre la discussione troppo di qua poco di là e continuo a dire favorirò il mezzogiorno i giovani e la parità di genere il terrore è che questi soldi finiscano a far crescere la bolla della pari genericità su tutto Davide Giacalone finisce qui la rassegna stampa appuntamento con te domani mattina grazie grazie mille e buona radio a tutti